Benvenuti in questo nuovo video. Ansia e attacchi di panico? Oggi vediamo un valido strumento che potete utilizzare quando, diciamo, queste crisi si presentano. Allora, vabbè, innanzitutto, non vi sto a spiegare cosa sono gli attacchi di panico, comunque una forma di ansia molto intensa, una crisi vera e propria nella quale avvengono, diciamo, delle reazioni fisiologiche anche importanti. Le persone che hanno questi attacchi generalmente percepiscono un forte terrore, una grande paura, paura anche di morire. Le motivazioni sono tante, nel senso che lì poi bisognerebbe andare a scavare nei vissuti e nelle esperienze di ognuno per capire come mai, infatti, si fanno comunque dei percorsi terapici, diciamo. Adesso vi spiego un paio di cose. Vabbè, ovviamente, a livello fisiologico, diciamo, a livello interiore, ciò che si percepisce, un senso di oppressione, tachicardia, paura, magari anche tremori, vertigini. Tante persone, durante una crisi di panico, che poi hanno comunque delle intensità variabili, non è che ci sono anche delle situazioni estreme dove proprio una persona non riesce neanche più a parlare e si corica a terra e non riesce più a fare niente, quindi poi ci sono, diciamo, anche situazioni un po' più leggere, quindi anche lì bisogna vedere da persona a persona, quindi generalmente però il respiro si fa affannoso, quindi l'attacco vero e proprio avviene a livello del respiro, cioè manca l'aria, no? Il cuore pompa, come se ci prepara, diciamo, a una reazione un po' fight or flight, no? Quindi il corpo si prepara a combattere o a scappare, cioè si va in allerta, i sensi vanno in allerta, in realtà è tutto solo qui, perché non c'è un pericolo reale fuori. E accade questo e bisogna innanzitutto accettarlo perché è parte di noi, quindi se avviene è inutile cercare di combatterlo in maniera dura o forzata, bisogna lasciare che questa cosa faccia il suo decorso e che comunque nel lungo periodo, diciamo, in un determinato periodo di tempo dobbiamo trovare delle escamotage per conviverci prima di tutto e riuscire ad avere degli strumenti validi per poterlo affrontare, ma in maniera indiretta, perché non posso combattere contro un attacco di panico, è impossibile, vincerà sempre lui. Ciò che posso fare però è avere la conoscenza e sapere come gestirlo. Bisogna acquisire i giusti strumenti per saperlo affrontare, perché questa è una cosa molto importante. Generalmente ciò che frega le persone che hanno queste problematiche è la paura della paura dell'attacco di panico, della crisi. Nel senso che spesso e volentieri magari le persone hanno anche già superato il trauma per cui gli attacchi di panico si presentavano, però continuano a presentarsi per il fatto che li temono e come ogni nemico, come ogni vero e proprio nemico, come ogni vero e proprio antagonista, più noi lo temiamo e più lui diventa forte. Qual è lo scopo di questo video? Vi mostrerò degli esercizi di respirazione da poter fare per intervenire prontamente nel caso in cui una crisi di panico si presentasse. Ovvio che non è che vi sto dando la soluzione a tutti i mali, vi do degli strumenti che sono molto funzionali, perché quando voi sapete che potete combatterlo, che avete degli strumenti, ciò vi darà sicurezza, la sicurezza andrà a far diminuire la paura e di conseguenza andrà a diminuire le probabilità che le crisi di panico si possano presentare. Va bene? Tutto chiaro? Quindi io sono sicuro di me perché mi sento di avere delle armi per poterlo affrontare, di conseguenza lui è più debole perché non sente che io ho paura che possa avvenire e quindi si presenta in maniera minore. Quindi prima di tutto, cosa accade? Mi blocco il respiro. Primo step, prendere il controllo del respiro dal naso. Immaginate, mi sta venendo un attacco di ansia molto forte, ho proprio una crisi di panico e quindi inizia a arrivare l'attacchicardia, no? Quindi cerco di respirare dalla bocca perché ormai sono in tilt e non riesco. Quindi la prima cosa che devo cercare di fare è prendere il controllo del respiro dal naso, quindi sono in questa situazione. Anche naso bocca va bene, ok? Inspirare però, cercare di attivare la respirazione dal naso, inspirazione dal naso. Poi, dopo un po' di tempo, sto acquisendo più controllo sul mio respiro perché tutto lì è il gioco e riuscire a prendere il controllo del respiro. Una volta che avrete preso controllo del respiro, allora inizierà pian piano a scemare, a diminuire, a calare questa crisi. Allora dopo un po', secondo step, inspiro tutto, lascio andare. E già lì inizio a avere più controllo. Terzo step, butto fuori, espirare con forza in maniera da far decelerare i battiti. La espirazione è l'unica cosa che ci permette di far decelerare in maniera, diciamo, radicale, in maniera veloce, i battiti cardiaci. Quindi per levare questa oppressione al petto. Quindi, da qui, butto fuori tutto, 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 tutto. Inspiro automatico, naturale. Con forza. E cerco di aumentare la pausa in cui, in quel momento, sono alla massima ispirazione, non ho più aria da buttare fuori. Quindi, tutto fuori. Tutto fuori. E già qui inizio a calmarmi. Poi, per tornare allo stato iniziale di calma, di quiete, proprio per eliminare l'effetto di questa crisi, allora inizio una respirazione. Quattro secondi inspiro. Quattro secondi pausa. Apnea. Quattro secondi espiro. Quattro secondi pausa. E via dicendo. Ok? Quindi queste sono le linee guida. Posso portare... L'ultimo step posso arrivare anche a cinque. Quindi cinque inspiro. Cinque pausa. Cinque espiro. Cinque pausa. E così calmo completamente il respiro e ritorno a respirare in maniera un po' più calma, un po' più naturale. Ok? Quindi ricapitoliamo questi quattro step. Step. Arriva la crisi di panico e inizio a prendere il controllo del naso. Quindi... Primo step. Controllo. Secondo step. Inspiro dal naso. Inspirazione lunga e prolungata. e lascio andare normale. Terzo step. Butto fuori con forza l'aria dal naso. Un'ispirazione molto potente. Ultimo step. Cinque o quattro o cinque secondi inspiro. Quattro secondi pausa. Quattro secondi espiro. Quattro secondi pausa. Bene, spero che ciò vi sarà d'aiuto. Lasciate anche un feedback sotto il video se avete testato, diciamo, questa respirazione su di voi. E mi piacerebbe sapere se vi è stata di aiuto. Se siete stati in grado, più che altro, di ritrovare questo controllo del respiro durante la crisi e l'attacco. Ovviamente se subite attacchi veramente forti, veramente intensi, più sarà forte l'attacco, più questa crisi sarà intensa, più sarà difficile. Mi raccomando, io vi ripeto, non vi sto offrendo una soluzione definitiva. Vi sto offrendo un possibile strumento che dovete ovviamente imparare ad utilizzare. Quindi in bocca al lupo e dateci dentro.